Gli ultimi dati dell'Istat attestano un calo di fiducia delle famiglie molto pesante rispetto agli anni precedenti. Questo calo come si ripercuote sugli acquisti, come si ripercuote sui commercianti? Il commercio si sta ripercuotendo molto negativamente perché vediamo che il calo dei consumi è molto forte. Noi ci troviamo ad avere un inizio stagione, perché ci troviamo all'inizio della stagionalità della primavera, con un calo già del 10-15-20%. Questo è ovvio che come partenza ci mette un po' in difficoltà perché pensavamo che con il finire dei saldi ci fosse un periodo invece di incremento, però è ovvio che questa situazione con il calo della fiducia delle famiglie è ovvio che questa aggrava molto di più ancora la crisi che ci sta nel nostro mondo delle imprese. Grazie.